Ci concentriamo e attenzioniamo in questo nostro appuntamento il derby sul derby del Catania con il Messina che si gioca proprio domenica nel pomeriggio allo stadio di Piazza Spedini e allora in vista di questo derby ma anche per fare il punto della situazione sul Catania abbiamo incontrato l'amministratore delegato rosso-azzurro Pietro Lomonaco a 360 gradi con lui abbiamo parlato del momento difficile della squadra sul campo e non ma intanto sentiamo il primo segmento di questa intervista Direttore, una settimana difficile quella appena trascorsa non solo sul campo ma anche fuori insomma dal campo non sono arrivati forse i risultati che si speravano e fuori sono arrivati degli inconvenienti diciamo burocratici cominciamo dal campo, che cosa sta succedendo a questa squadra? Semplicemente una squadra che riesce a concretizzare penso in una maniera ridottissima rispetto a quello che produce andando a rivedere tutte le partite un dato di fatto che emerge è che il Catania fino ad ora fra partiti amichevoli, partiti di Coppa Italia, partiti di campionato ha disputato quasi 20 partite, 18-20 partite e eccezione fatta per la partita agrigente il Catania non ha mai perso, quindi sono state più le partite dove il Catania meritava di vincere e purtroppo in maniera abbastanza inopinata ha lasciato dei punti che quelle tipo Matera dove magari si poteva recriminare al contrario ci poteva anche stare che Matera segnava il passo però la squadra fino ad ora ha dimostrato di essere un organico dispessore è che devo essere sincero e che c'è mancato in pieno il settore avanzato certamente non è questo il rendimento che ci aspettiamo tutti da gente come Calille, da gente come Russotto, da gente come Paolucci da gente come Piscitella, da gente come Anastasi quindi voglio dire c'è un momento di disappunto per quello che poteva essere e che non è stato però c'è da dire anche che questa è una squadra che per l'ennesima volta parte con un handicap pazzesco 7 punti da recuperare con tutto quello che ne consegue perché magari il problema non è tanto recuperare i 7 punti il problema è quello che è l'aspetto psicologico che ti porti dietro l'anno scorso 9 punti, ora 7 punti mi sembra che sia una spirale negativa da cui si fa fatica a uscirne definitivamente però ripeto noi ci dobbiamo organizzare e concentrare su quello che è il lavoro noi ci dobbiamo concentrare sul mettere in piedi una squadra forte in ogni reparto una squadra competitiva che sia capace nel tempo di agganciare la zona playoff e poi dopo vediamo ripeto se dovessimo fare questo e nello stesso istante riusciamo a far camminare di pari passi il risanamento economico del Catania avremmo fatto veramente un percorso eccellente lei faceva riferimento prima alla sterilità offensiva perché in realtà 5 gol in 7 partite sono eccessivamente poco per una squadra che ha quel potenziale offensivo è un gol ogni 120 minuti che cosa succede? lei che è un profondo conoscitore del calcio nella mente dei giocatori gli attaccanti si sa vivono di gol quando non arriva il gol vanno in crisi però se vanno in crisi è perché evidentemente da un punto di vista caratteriale non sono tanto forti quindi stiamo pagando tutte queste concomitanze negative e tutte nello stesso settore però ripeto c'è disappunto per quello che poteva essere e che ancora non è stato quello che potevamo raccogliere e che non abbiamo raccolto però c'è anche la coscienza che abbiamo un organico di tutto rispetto si è parlato di tanto in tanto girano voci sul futuro di Rigoli possiamo una volta per tutte dire che il tecnico del Catania non ha nessun problema? ma io non so io capisco anche che quando le cose non vanno benissimo il primo a pagare legge del calcio è sempre l'allenatore no io quello che posso dirvi è che per noi la scelta dell'allenatore è stata ponderata di conseguenza non l'abbiamo mai messo in discussione non abbiamo mai pensato a un ipotetico cambio noi andremo avanti concentrarci sul lavoro concentrarci su quello che è la crescita del gruppo e possibilmente anche nel completare un lavoro che secondo me abbiamo cominciato abbiamo portato avanti ma che non abbiamo ancora finito siamo a metà settimana domenica c'è il derby con il Messina è una partita dal sapore certamente particolare per lei perché insomma la vive no no assolutamente io non la vivo per niente per me non è derby per me il derby del Catania è quello con il Palermo non so dove sia venuta fuori questa cosa del derby quindi con il Messina per me non ha nessun valore se non quello dei tre punti in palio quindi alla fine mi auguro che sia il Catania a portare a casa i tre punti magari disputando anche una buona gara c'è un'apertura ci saranno i tifosi del Messina al Massimino che cos'è questo? un credito al Catania? un credito allo sport? un credito al Catania un credito al Catania mi piace pensarlo un credito al Catania e sono sicuro che questo credito alla fine i nostri tifosi lo sapranno legittimare con un tifo magari anche colorito ma con un tifo sereno senza escandescenze a questo punto si spera che magari al ritorno i tifosi del Catania finalmente possano andare in trasferta beh ce lo auguriamo noi ci abbiamo provato anche a Taranto come società abbiamo fatto un documento congiunto noi e il Taranto e il Lega per poter avere i nostri tifosi al seguito però mi sembra che vinca il parere di chi alla prima difficoltà come primo rimedio mette in atto quello di non far arrivare i tifosi ospiti al campo quindi c'è ancora questo modo di ma il calcio senza tifosi è un calcio inutile è un calcio che non ha motivo di esistere se non ce ne stiamo tutti a casa in televisione a vedere le partite e penso che finisca pure il senso del calcio cercheremo di capire scoprire di più cos'è successo per quanto riguarda la vicenda Castro e anche qual è la situazione dei conti del Catania Dietro quanto vi dà fastidio vedere il Catania ultimo in classifica in questo campionato ma io faccio un'analisi serena non è che posso andare mi dà fastidio che il Catania non abbia fatto i punti che meritava di fare quello mi dà fastidio poteva avere diversi punti in più perché la partita con l'Agregas era una partita praticamente vinta la partita col Fondi era una partita praticamente vinta quella di domenica era una partita che quella con Arreggio Calabria idem con Patate con un po' di fortuna e direi anche un po' di convinzione avremmo potuto avere diversi punti in più quindi questo mi dà fastidio il fatto che siamo ultimi beh intanto abbiamo siamo usciti fuori dallo zero quindi ora siamo a a uno quindi è già un fattore la vedo come il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto andiamo avanti abbiamo diverse c'è ancora una vita da giocare quindi ce le giochiamo partito dopo partito l'obiettivo nostro è quello di agganciare la zona playoff se dovessimo riuscirci vuol dire che avremmo fatto un buon campionato e poi dopo vediamo poi ce la giocheremo direttore in settimana sono arrivati anche alcune decisioni che non hanno niente a che vedere con il campo prima fra tutto la vicenda legata a Castro una vicenda vecchia che però pesa oggi sul sul Catania io direi che bisognerebbe spiegare una volta per tutte evidentemente quello che abbiamo da sempre spiegato o non siamo stati felici nell'esprimere i concetti o non sono stati recepiti bene allora il Catania è stato punito ma non ora non dieci giorni fa diversi mesi fa per la vicenda Castro che risale al 2014 va bene quindi è una vicenda vecchia annosa che forse l'anno scorso si poteva sistemare con un accordo con il Racing cosa che non c'è stato quindi il Catania è stato sanzionato dalla FIFA su richiesta del Racing dei canonici sei punti in questi casi che si danno in questi casi quando siamo subentrati quando c'è stata la nuova diciamo così inversione di tendenza la prima cosa è stata fare un accordo con il Racing abbiamo fatto un accordo del Racing abbiamo pagato due rate abbiamo chiesto la sospensione in FIFA la sospensione del provvedimento che già era stato fatto l'altro ieri la FIFA ci ha risposto che il provvedimento non si può sospendere perché risale in illo tempore a questo punto come da prassi abbiamo 30 giorni di tempo per ricorrere al TAS dove porteremo tutte le nostre ragioni e dove ci auguriamo di difenderci nei modi dovuti quindi se dovessimo riuscire a levare qualche punto o allevarli tutti vuol dire che è andata benissimo diversamente è una cosa che ci siamo ritrovati ce la portiamo l'affrontiamo con con serenità i tempi si possono immaginare no no i tempi abbiamo un mese per presentare il ricorso poi dovrà decidere quando riunirsi l'organo competente al TAS e poi si vede un'altra vicenda che certamente disturba è anche il caso Rosina fra virgolette perché come se piovesse sul bagnato altri 150 mila euro da sborsare e non sono pochi vista la situazione io penso che noi non abbiamo esagerato quando abbiamo detto che il Catania era una società praticamente fallita quindi il fatto di stringere i denti e di cercare di andare a chiudere tutto e a tamponare a cercare di levare e pianificare e pareggiare tutto quello che è un discorso debitorio questa è una cosa che ce la poniamo come obiettivo principale però la situazione è quella che è è una situazione che purtroppo fa acqua da tutte le parti abbiamo fatto tanto in questi quattro mesi e abbiamo la speranza che tanto altro ancora potremmo fare in un prossimo futuro insomma ai tifosi del Catania possiamo lanciare un messaggio per assicurarli io non assicurarli no la speranza è un momento di di combattimento è un momento che mi sembra un film che già ho visto quando siamo arrivati qua che abbiamo rilevato la società dai caucci io ricordo che i primi sei mesi del campionato li ho passati più con gli avvocati che con la squadra mi sembra di rivedere quel film con l'eccezione che eravamo in serie B con i caucci mi auguro che sia foriero degli stessi avvenimenti che si sono seguiti dopo anche questo beh ha parlato di squadra ha detto qualcosa in particolare alla squadra loro lo sanno quello che ho detto quello che dico all'interno alla squadra è un discorso che rimane fra me e loro certamente gli ho espresso il punto di vista nostro della società loro sanno come la pensiamo l'interno 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 l'interno